Nuova edizione del nostro videogiornale, bentornati. Schio ride notturno nel negozio di smartphone, asportati vari modelli per 10.000 euro di valore. L'incursione avvenuta nella notte tra domenica e lunedì sarebbe andata in scena intorno alle 2 di notte ed è stata opera di un lupo solitario ripreso da più telecamere interne e di videosorveglianza. Si tratta di un uomo tra i 30 e i 40 anni che ha agito a volto scoperto riempiendo uno zainetto e uno sacchetto di plastica di telefonini. Vicenza, coca sul tappetino della Panda, prima del controllo, 3 vicentini fermati, uno arrestato. Oltre ai circa 20 grammi di cocaina ritrovati nel vano portaoggetti, dentro un sacchetto di caramelle e tra i piedi di un quarantenne di Anconetta, in casa sono stati rinvenute marijuana a scisce per un chilo, arrestato in flagranza lo spacciatore ora ai domiciliari dopo la convalida, liberi i due amici considerati puliti, con lui in auto alle 3 della notte di sabato. Valdagno cade dal terzo piano di una palazzina a soccorso in eliambulanza e in condizioni critiche. L'allarme al 118 è giunto alle 8.30 di oggi martedì, dalla frazione di San Quirico è stato appurato che il ferito era accaduto da un'altezza di 8-10 metri per cause sconosciute. Potrebbe trattarsi di un tentativo di un gesto estremo. I soccorsi del SUEM hanno permesso il trasporto aereo verso il reparto rianimazione del San Bortolo. Schio, cuore della divulgazione scientifica, torna il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Dopo il successo delle prime quattro edizioni, con numerosi ospiti d'eccezione, dal 4 al 6 novembre, torna Schio il Festival della Scienza, un weekend dedicato all'innovazione, comunicazione, al saperi scientifico, con numerosi eventi per famiglie e bambini adulti, una nuova formula con 20 diversi appuntamenti. Previsioni meteo, primo novembre, 3 novembre, tempo in graduale peggioramento. L'alta pressione africana inizia a cedere sull'Europa occidentale. Favorirà questo l'arrivo di correnti più umide da ovest, che porteranno le prime nuvole a coprire il sole di tanto in tanto. Conseguentemente lo zero termico in quota inizierà a calare. Pagina dell'eco nazionale politica, Giorgia Meloni, mai temuto di non poter creare un esecutivo. Primo bilancio del nuovo governo targato Giorgia Meloni a farlo il leader di Fratelli d'Italia. Non ho mai temuto davvero di non riuscire a fare un esecutivo, anche se ho preso in considerazione l'ipotesi di presentarmi in Parlamento senza un accordo preventivo con tutti gli alleati, quando alcune proposte mi sono sembrate irricevibili. Economia, caro bollette, ConfCommercio lancia l'allarme. Paghiamo l'elettricità più 70% rispetto alla Francia. Secondo i dati rilevati dal ConfCommercio, gli italiani pagano l'elettricità il 70% in più rispetto alla Francia. La bolletta della luce è mediamente superiore del 27% rispetto alle imprese spagnole. Ucraina, scoperte altre camere delle torture, anche oggi partono tre navi con grano. Giunge al 251esimo giorno la guerra in Ucraina. La polizia ha appena reso noto che nel paese sono state scoperte 34 trastanze delle torture, prigioni che erano state allestite dalle forze russe nei territori da poco liberati da Kiev. Sport Serie A, il giovane Volpato lancia la Roma in zona Champions. Due vittorie in trasferta nell'immedi di campionato mandano in archivio la dodicesima giornata di Serie A. Colpi corsari per la Roma a Verona e per il Bologna in casa di un Monza ancora sotto shock per l'aggressione a Pablo Mari. È tutto, grazie dell'attenzione. A risentirci a domani. A risentirci a domani.